Allora, oggi si è svolta una riunione qui in Anci delle città portuali, molto partecipata, dove erano presenti anche rappresentanti di grandi città italiane. Da parte nostra c'è un grido d'allarme che è dettato da quello che è contenuto all'interno del correttivo Porti, che fu fatto in fretta e furia in conclusione della 17esima legislatura e pertanto in un documento che oggi abbiamo ampiamente discusso, sottoporremo questo grido d'allarme al Ministro Toninelli affinché si porti al più presto un ulteriore correttivo che possa questa volta ridare piena legittimità ai comuni di poter in qualche misura avere l'ultima parola sulla questione urbanistica. Si è parlato anche di sicurezza, nell'ambito portuale si è parlato di ambiente relativamente ad una serie di buone iniziative che sono state sviluppate nel corso degli anni e pertanto continueremo il nostro lavoro di dialogo con i rappresentanti del governo affinché sia i temi di sicurezza portuale, sia i temi ambientali legati al rapporto porto-città possono diventare agenda del dibattito politico nazionale.